l'autaro martinez e le voci di calcio mercato una telenovela che di fatto non si è mai conclusa e che torna a far vivere giorni caldi in queste ore in Spagna se ne è tornato a parlare si è tornato a parlare di l'autaro martinez in ottica mercato è ricominciata quella che è stata una campagna mediatica che soprattutto eh l'anno scorso era stata veramente massacrante facciamo il punto della situazione in questo nuovo episodio vediamo che cosa sta accadendo realmente poi vi lascio anche delle mie considerazioni personali alla fine di questo episodio e alla fine di questo episodio anche un flash con alcune notizie di mercato importanti una soprattutto molto molto su cosa so che farà molto discutere ma ve la darò alla fine perché prima parliamo di Lautaro martinez e partiamo subito senza perdere tempo perché leggiamo la notizia che ha fatto molto discutere eh riportata dal sito del quotidiano mondo deportivo in molti l'avete condivisa nella nostra community all'interno del gruppo telegram e e sono si sono scatenati inevitabilmente tanti commenti perché la notizia la leggiamo Lautaro deja di essere intoccabile è nell'inter Lautaro non è più intoccabile all'intera scrive mondo deportivo faccio la traduzione eh automatica il club italiano non chiude ora il al trasferimento dell'argentino se l'offerta si aggira intorno ai settanta milioni di euro scrive eh il mondo deportivo l'atletico interessato al giocatore crede che la prossima estate sarebbe più facile inseguirlo quindi l'atletico secondo il mondo deportivo è più disposto a seguirlo tra un anno a riprovarci tra un anno o comunque pensa che tra un anno sarà più semplice mentre comunque ad oggi secondo questa notizia riportata eh l'inter può vendere a fronte di un'offerta da eh settanta milioni di euro ecco allora qual è la situazione ad oggi dunque eh innanzitutto Lautaro è in scadenza di contratto nel duemilaventitré quindi la scadenza sì bisogna prestare attenzione non è così imminente da doversi preoccupare subito però è chiaro che eh ti ritroveresti la prossima estate a trattare con un giocatore che è all'ultimo anno eh di contratto e quindi è un discorso che andrà sicuramente affrontato e e l'Inter anzi aveva già affrontato questo discorso perché come sappiamo c'è stato questo cambio di agente si è affidato allo stesso procuratore che segue di fatto a Sharaf Akhimi eh abbiamo più volte commentato le dichiarazioni di questo agente che ci ha e sinceramente mi ha anche un po' infastidito nel lato nel mio lato diciamo più da tifoso interista però ormai abbiamo capito quello che è un po' il suo stile considerando anche che tra l'altro Akhimi appena è arrivato a Parigi eh la gente ha dichiarato che il suo sogno è tornare a Real Madrid giusto per per farsi capire ecco comunque eh la gente come detto aveva rifiutato aveva annunciato di aver rifiutato l'offerta di rinnovo formulata dall'Inter e diceva che era sostanzialmente ehm no era sostanzialmente l'offerta come vi abbiamo raccontato tante volte che in precedenza l'Inter aveva pattuito comunque aveva raggiunto una sorta di accordo con i precedenti agenti eh di di Lautaro quindi si parlava di un'offerta attorno ai quattro milioni e mezzo di euro più bonus con un contratto esteso al duemilaventiquattro o molto più probabilmente al duemilaventicinque quel rifiuto quell'annuncio del rifiuto dell'offerta sinceramente ci aveva un po' allarmato perché sembrava una trattativa ben incanalata andata sui giusti binari e invece per come erano arrivate quelle parole si poteva presagire forse un accenno di addio e contestualmente al cambio di procuratore che sappiamo porta sempre a delle novità invece poi lo stesso agente nei giorni immediatamente successivi aveva rilasciato altre dichiarazioni che come abbiamo commentato più volte in diretta sembravano eh più distensive e sembravano far presagire con riavvicinamento nelle trattative personalmente come vi ho detto tante volte quindi ho captato in queste serie di dichiarazioni anche spesso contraddittorie un po' di strategia da parte del giocatore che chiaramente vuole ottenere il massimo per eh per il suo assistito forse dico anche in virtù di alcune operazioni che sono state concluse dopo come ad esempio l'arrivo di Ceranoglu che da nuovo arrivato andrà a guadagnare attorno ai cinque milioni circa eh però ecco non tanto Ceranoglu però in generale un Lautaro che oggi guadagna due milioni e mezzo qualcosa in più con i bonus eccetera giustamente credo la gente è nel suo lavoro cercare di tutelare maggior il maggior modo possibile gli interessi del proprio assistito e dice se per il mio assistito chiedete ad un eventuale acquirente novanta cento milioni di euro allora anche l'ingaggio deve essere in linea con un giocatore assolutamente top considerando anche quelli che sono altri ingaggi ma eh il discorso che sto banalizzando non è che il procuratore si presenta con questo discorso lui guadagna così allora anche io devo guadagnare così comunque ad oggi non vedo società in grado di fare un'offerta che potrebbe far traballare l'Inter eh soprattutto perché le società principalmente maggiormente interessate all'autaro sono quelle che arrivano dalla Spagna e di Spagna c'è una situazione che eh non dico identica a quella dell'Inter ma di sicuro non c'è tutta questa liquidità con cui andare ad effettuare un assalto così importante il Real Madrid filtrano varie voci piuttosto confermate sembra che chiuderà anche questo mercato con un forte attivo perché eh potrebbe non acquistare nessuno di fatto non dovrebbe acquistare nessuno dopo l'arrivo di Alaba che però sostituisce Sergio Ramos a livello di eh peso di ingaggio e per il cartellino non è stato pagato e e poi è stato venduto sostanzialmente Varane e sono arrivati anche tre milioni dal Milan per il prestito di Brian Diaz il Barcellona sta praticamente ovviamente svendendo una squadra intera ci sono tantissimi esuberi di cui si sta cercando di liberare e sta cercando di fare spazio al livello di monte in gaggi e poi ha una lunghissima rosa di attaccanti che non credo abbia bisogno di aggiungerne un altro non credo abbia nemmeno la possibilità di aggiungerne un altro adesso eh l'Atletico Madrid di cui parla anche il quotidiano mondo deportivo ci aveva provato con una prima offerta però intanto ha già investito su eh De Paul per circa trentacinque milioni a Suarez in Rosa che comunque ancora una buonissima stagione secondo me potrà farla e sta ragionando poi si parla molto su possibili scambi per riavere Griezmann eh detto questo tra l'altro vorrei sottolineare come anche l'Atletico Madrid nelle scorse ore abbia ottenuto un nuovo finanziamento da trecento milioni di euro che si aggiunge ad un aumento di capitale da centottanta non mi sembra ecco la situazione migliore per poter eh pianificare un altro investimento da settanta ottanta novanta milioni di euro quelli che serviranno per il cartellino di Lautaro più un ingaggio veramente pesante da aggiungere in rosa in Premier League molti club si sono già esposti su diversi profili tra il Manchester United che ha già speso il Manchester City che sta andando soprattutto su Kane magari anche su Greilish eccetera eh il Chelsea si è parlato molto di Lukaku ma anche qui l'Inter lo ha già dichiarato incedibile eccetera mi sembrano comunque concentrati su altro non mi sembrano le discussioni in questo momento attive su Lautaro a queste considerazioni andiamo poi verso la conclusione aggiungo anche le parole dei dirigenti dell'Inter che sono stati fin qui di parola e scusate il gioco di parole comunque eh è chiaro che se ti arriva all'improvviso un'offerta da novanta o cento milioni di euro non puoi far finta di nulla eh è giusto secondo me considerarla anche in tempi normali figuriamoci nella situazione di oggi però la linea è sempre stata quella eh di cedere un solo big in questa sessione di mercato eh uno è già andato via come Achimi e poi il mantenimento dell'ottanta per cento della rosa considerando quindi gli addi di Achimi di Young eh Pinamonti che era in rosa che dovrebbe andare c'è Vidal sul quale si sta facendo alcuni ragionamenti eccetera Eriksen eh lo sappiamo ecco la linea è chiara e quindi non mi aspetto altre gestioni soprattutto non mi aspetto altre gestioni di big eh come come Lautaro appunto è vero che bisogna ridurre il costo squadra del quindici per cento e bisogna fare un attivo di settanta milioni circa però l'obiettivo è lì è abbastanza vicino e non credo ecco che vendere Lautaro sia un'urgenza così importante in questo in questo momento almeno da quello che continua a ribadire anche l'Inter eh ad oggi quindi io vedo un Inter che riparte in questa stagione con la Lula però però il tema rinnovo sarà affrontato dopo il mercato e andrà affrontato io eh ho interpretato in questo modo anche le dichiarazioni di Antonello Antonello amministratore delegato dell'Inter che nei giorni scorsi aveva detto dopo il mercato faremo i conti non parlando di Lautaro Martinez ma parlando della situazione eh del mercato dell'Inter secondo me la strategia e ci può stare eh di questa finestra di mercato è quella di riuscire a risparmiare di restare nei parametri imposti della proprietà ma creare un ulteriore spazio cioè se devi scendere in questo momento eh come obiettivo a trecento milioni di costo squadra sto buttando una cifra a caso magari chiudere questo mercato con un costo squadra di duecentottanta perché così ti crei uno spazio di 20 milioni in cui andare ad inserire alcuni rinnovi che dovrai fare nelle prossime settimane quindi dopo il mercato sostanzialmente quello di Lautaro quello di Barella e Defray pure di Defray si sta parlando molto in chiave mercato però per me rimane ne parliamo troppo pochissimo eh dimenticavo Brozovic e forse Perisic ma una situazione particolare e ne parleremo a parte eh poi con lo spazio quindi che riuscirai a creare in questo mercato andando a risparmiare su vari calciatori eccetera vai ad impostare le trattative per per i rinnovi rimanendo sempre all'interno di quelli che sono i paletti dettati alla proprietà quindi il discorso eh rinnovo con Lautaro entrerà nel vivo dopo il mercato ed è giusto secondo me comunque che l'Inter riconosca un aumento anche al calciatore non perché guadagna poco chiaramente però perché deve essere in linea col nuovo status di un titolarissimo eh allo stesso tempo temo però che l'addio possa essere soltanto rimandato non voglio creare allarmismi non voglio fare l'Inter triste come sapete noi qui su Passione Inter in realtà siamo sempre il canale dove trovare il maggiore ottimismo in tutte le situazioni eccetera però ho questa sensazione comunque che tra un anno soprattutto il Barcellona mi preoccupa più che eh più che l'Atletico Madrid che comunque va tenuto fortemente in considerazione sempre se l'economia del calcio riparte i conti si mettono un pochettino a posto eh Lautaro era già vicino al Barcellona un anno fa per cui può essere un affare eh rimandato logico però ecco che l'Inter lo abbiamo visto con Achimi otterrà comunque per quello che è il management che si occupa di queste operazioni eh sono convinto che otterrà un pagamento una valutazione in linea con quello che è il valore eh di di un grandissimo attaccante e soprattutto ci sarà anche maggior tempo per trovare poi chi dovrà sostituirlo e per organizzare la sostituzione di Lautaro Martinez altrimenti oggi ti ritroveresti diciamo improvvisamente eh in questo contesto di mercato difficile a dover sostituire un un grande attaccante in pochi giorni e ripartire dopo una stagione in cui ha vinto lo scudetto cambiare anche l'attacco eccetera comincerebbero ad essere dei cambiamenti un po' non dico azzardati ma tanti cambiamenti eh da dover assorbire quindi questa è la situazione relativa a Lautaro oggi abbiamo fatto un po' di ordine visto che in queste ore in tanti ci avevate scritto allarmati su questa situazione su questa notizia ad oggi in vista della stagione ventuno ventidue mi sento se proprio devo mettere un punto di domanda lo metto forse un po' più grosso sulla permanenza di Sanchez piuttosto che su quella di eh Lautaro Martinez visto che Sanchez ha dei costi molto elevati e eh sono secondo me dei costi anche difficilmente sostenibili soprattutto se fisicamente non dà le garanzie necessarie da parte del di quello che deve essere il terzo attaccante il terzo attaccante nell'Inter deve essere un titolare sostanzialmente eh vedremo per cui se effettivamente rinnoverà al ribasso l'attaccante cileno al momento però pare soltanto una voce non c'è molto di più eh dopodiché sono ore decisive per Nandes facciamo un po' il punto con le ultimissime di mercato Inter e Cagliari stanno trattando anche in queste ore stanno trattando anche per Nangolana che forse è una pedina che verrà prima di Nandes vedremo la sensazione comunque è che al Cagliari intanto stiano programmando anche l'addio di Godin e l'addio di Godin e dovrebbe creare lo spazio a bilancio per poter inserire l'ingaggio eh di di Nangolana appunto poi alla luce di questo contestualmente andare a chiudere anche Nandes all'Inter è un gioco di incastri complicato però le volontà delle parti in causa sono abbastanza chiare e tutto fa pensare ad un accordo vicino soprattutto anche questa estensione delle ferie eh che il Cagliari ha accordato sia a Godin che a Nandes risulta veramente sospetta nel momento in cui le parti stanno discutendo in maniera così eh febbrile intanto inoltre nel frattempo si stanno chiudendo altre operazioni legate ad altri calciatori giovani quindi l'Inter sta cominciando a sfoltire l'opera di chiusura della rosa attorno ai venticinque elementi sempre più vicina eh Stancovic va in Olanda mulattieri al crotone come detto poi ci sono anche da sistemare chiaramente Pinamonti tra il Cagliari che è molto interessato soprattutto però c'è l'Empoli a cui prestare attenzione Satriano è una situazione ad oggi difficile da definire perché ci sono tantissimi club interessati è vero che ha impressionato Inzaghi è vero che ha dimostrato potenzialmente di poter essere anche eh preso in considerazione per la prima squadra però attenzione sempre al calcio d'estate perché poi il campionato della stagione è un'altra cosa è un giocatore giovane ha bisogno di giocare quindi al momento l'orientamento è quello di mandarlo in una società che garantisca la continuità eh giusta e credo sia la decisione giusta dire oggi dove andrà è difficile perché piace veramente a a chiunque a qualsiasi società la notizia più succosa però prestiamo attenzione perché è atteso a Milano la gente di Beyerin esterno dell'Arsenal esterno destro dell'Arsenal abbiamo già parlato nei vecchi episodi vi consiglio di andare a recuperare un episodio in cui parlavo in maniera approfondita del perché secondo me comunque Beyerin sarebbe un buon affare per l'Inter è un nome da tenere assolutamente d'occhio anche lui ha espresso un forte una forte preferenza per l'Inter diciamo così se si dovesse sbloccare l'operazione l'Inter può effettivamente fare eh Nandez e Beyerin facendo poi partire uno in mezzo a centrocampo e qui probabilmente l'indiziato è Vidal eh io vi dico tra l'altro eh dovessero concretizzarsi queste operazioni inclusa quella Nandez Nandez più Beyerin e poi magari chi lo sa chi lo sa una quarta punta dovesse andare via qualcun altro lì davanti non so quanto quest'Inter alla fine di questo mercato sarà effettivamente più scarsa dell'anno scorso così come eh come dicono molti non so soprattutto quanto il gap con le altre sia eh si sia così allargato come stanno dicendo dicendo tanti altri tra l'altro al momento il colpo più importante degli altri club mi sembra la partenza di Achimi dall'Inter per il resto non vedo muoversi molto altro l'arrivo di Nandez più Beyerin sarebbero due grandi colpi forse i migliori colpi dell'estate fatti sempre dall'Inter vedremo vedremo comunque eh De Frai dicevo prima ci credo poco so da alcuni amici e colleghi che conosco molto bene mi hanno detto che diversi siti che si occupano diverse testate giornalistiche che si occupano di calcio ma anche di mercato eccetera con le notizie su De Frai e soprattutto Raio la Raio è un nome che tira parecchio eh un nome che scalda molto i click degli utenti mi hanno detto che hanno fatto record di letture con questa notizia in queste ore quindi tenete a mente anche questo quando escono queste notizie quando le commentate fatemi sapere che ne pensate anche voi vi terremo un po' aggiornati con tutte le news di mercato durante le nostre dirette vi ricordo che fino al 16 agosto siamo live su Twitch dalle 14 alle 15 e 30 col TG Passione Inter Notizia Raffica e poi la sera su YouTube dalle 19 e 30 alle 20 e 30 sempre su YouTube seguiremo inoltre le eh amichevoli dell'Inter quindi iscrivetevi ai nostri canali se avete seguito fino a qui questo episodio nei commenti mettete l'emoji del pollice alzato oggi andiamo in maniera un po' banale un pollice alzato e così ci date l'ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti